Il weekend di eccellenza pugliese si apre con un ritiro dal campionato, quello del Ginosa, costretto a questa scelta dopo aver saltato quattro partite a causa del Covid-19 e con un focolaio ancora in atto nello spogliatoio, dove fino a qualche giorno fa c'erano dodici positivi tra i componenti del gruppo squadra e lo staff tecnico. Una decisione che non avremmo mai voluto comunicare, la definisce in una nota ufficiale il presidente Vincenzo Ribecco, ma con molto rammarico, visti i numerosi positivi che continuiamo ad avere in rosa, non riusciamo a terminare la stagione. In questi giorni, racconta, ci siamo riuniti più volte e abbiamo ascoltato il parere di tutti gli addetti ai lavori, di molti amici che ci sostengono per poter ripartire. Purtroppo non possiamo mettere a rischio l'incolumità di tutti i nostri tesserati e delle loro famiglie. Abbiamo perso amici e parenti per questo maledetto virus e alcuni di noi stanno lottando duramente per rimanere in vita. Appuntamento alla prossima stagione per un caso sin qui forse senza precedenti in Italia. Il Ginosa ha incassato la solidarietà degli altri club che partecipano alla Premier League pugliese e il suo ritiro ridisegna di fatto la classifica del girone B. Perderanno tre punti a testa in classifica Grottaglie, Ugento e Otranto che contro il Ginosa avevano vinto, mentre resta tutto invariato per il Sava che avendo perso contro il club ionico non subirà perdite di punti. Nel raggruppamento complice la mancata partecipazione del Manduria restano così 12 squadre. Con la non aggiornata all'orizzonte nella giornata di domenica 9 maggio, Invetta ce l'Otranto, protagonista dell'unico anticipo del turno, sabato alle 16.30 sul campo del Grottaglie, con il Toma Maglie secondo a riposo, occasione per il sorpasso per il Martina, terzo, che ospita il Racale. A completare il programma Massafra Gallipoli, Ugento Castellaneta e Virtus Matino Deghi. Starta alle 16.30 come per le quattro partite in programma domenica nel girone A. Spicca il derby della BAT tra Barletta 1922 e Vigortrani, con la squadra di Mister Farina intenzionata a dare continuità al Tris di Vittoria in annellato negli ultimi turni e a mettere pressione alla capolista Manfredonia, che invece ospita il Real City. In programma anche Sansevero Odace e Città di Mola Team Mortanova. Riposano invece Corato, Unione Calcio Bisceglie e Atletico Vieste.